Doveva essere una soluzione temporanea ed invece quella dei container ubicati al campo degli Ulivi è una solida realtà da 19 anni. Per questa ragione i 33 residenti di Viale Virgilio andranno a Bari grazie ai bus messi a disposizione dall'amministrazione Landella per presentare la propria situazione al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. 50 metri quadrati per i nuclei familiari da 4 persone, condizioni igieniche non sempre all'altezza, tra umidità ed insetti che abitano il campo degli Ulivi, bombole del gas all'aria aperta. Erano entrati nei container convinti di sostare per qualche mese dopo aver lasciato l'exompi e poi sono rimasti intrappolati in quei container. Nessuna opera di manutenzione, la solita visita dei candidati ad ogni tornata elettorale, ma le condizioni dei residenti non cambiano. Ne ci vengono a guardare, ne vengono a vedere che cosa facciamo, il sindaco se ne è dimenticato di noi. Da candidato, dicono i cittadini, Landella ci ha promesso una risoluzione del problema. Oggi però il sindaco metterà a disposizione solamente un autobus che porterà ad Emiliano i residenti del campo degli Ulivi. Noi vorremmo pagare l'energia elettrica, ma nelle mura, dove sappiamo che ci sono impianti a regola e dove uno ha una somma adeguata, ma non arrivare a pagare 1.500 euro. Che facciamo? Andiamo a rubare? Che facciamo? Andiamo a rubare?